Questo bellissimo video notturno è stato girato nella città di Yuki Pila, nella regione messicana di Zacatecas il 18 maggio del 1992, in seguito all'ondata di avvistamenti UFO avvenuta in Messico a partire dall'11 luglio del 1991. Sì, 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 Abbiamo analizzato alcuni frammenti del video al rallentatore e siamo riusciti ad individuare nonostante la ripresa notturna la forma dell'oggetto grazie ad alcuni fermo immagine elaborati al computer. L'analisi grazie a tutti non ci ricorda nessun tipo di velivolo militare o civile bensì la forma tipica di un oggetto volante non identificato o meglio di un vero e proprio UFO.